Altra giornata di passione per gli studenti alle prese con l'esame di maturità, tutti a scuola dalle 8.30 questa mattina per la terza prova scritta, per molti la più temuta, introdotta nel 98 con la riforma dell'esame di Stato, la prova ha infatti carattere multidisciplinare, verte su un massimo di 5 materie dell'ultimo anno di corso e varia da scuola a scuola, definita e redatta dalla Commissione d'esame, sia pure sulla base di alcune caratteristiche stabilite a livello centrale dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono state diverse le tipologie di esame per questa prova, la trattazione sintetica di argomenti, i quesiti a risposta singola, quelli a risposta multipla, i problemi a soluzione rapida, i casi pratici e professionali, lo sviluppo di progetti, una prova obbligatoria in ogni scuola e quella dedicata a lingua straniera, una breve esposizione in lingua o in alternativa, una risposta breve su uno degli argomenti o uno dei quesiti a scelta del candidato, fra quelli proposti dalla Commissione nell'ambito delle varie tipologie. Al termine delle operazioni di correzione degli iscritti saranno sempre le singole commissioni a stabilire la data d'inizio degli esami orali che dovrebbero comunque terminare entro la metà di luglio. Al liceo Meli di Palermo diversi gli argomenti dalla filosofia ai lavori presentati in supporto multimediale dai giovani. La percentuale più alta di candidati, il 39%, sta affrontando l'esame presso gli istituti tecnici, mentre quella più bassa si registra nei licei linguistici. Il 20% di maturandi ha frequentato i licei scientifici, il 17% i professionali, il 10% i licei classici, l'8% i ex istituti magistrali e il 3% i licei artistici e istituti d'arte. Lo scorso anno alla fine degli esami furono bocciati 34 candidati ogni 1000 e fu dichiarato maturo il 96,6% del numero complessivo. Vedremo come andrà a finire quest'anno.